Anche sul tema della collocazione della statua di Veromodeo, il sindaco Sala non riesce a fare la cosa giusta, per l'ennesima volta. E dire che questa volta avevo sostenuto e apprezzato la sua prima posizione. Facciamo un piccolo riassunto. Una commissione di tecnici comunali della sovraintendenza delle belle arti, istituita dalle giunti di sinistra nel 2015 dal sindaco Pisapia incredibilmente ha giudicato in idonea la statua di Veromodeo che si chiama Dal latte materno nasciamo, in idonea per essere collocata in piazza Duse o comunque in una piazza milanese, con la seguente motivazione. Perché rappresenta valori rispettabili ma non universalmente condivisibili. Pazzesco! Una statua di una donna a seno nudo che allatta il figlio o la figlia rappresenta valori non condivisibili. Ma noi da dove siamo nati? Ma noi come cresciamo? Il tema del latte materno che è un valore enorme, peraltro battaglie fatte dalla sinistra contro il latte in polvere e a difesa invece del tema dell'allattamento naturale e la vita, c'è un tema di natalità, un tema di sostenere la vita, la procreazione e quindi questa è una statua dove deve essere l'emblema del tema di fare più figli, di allattarli, della natura, proseguire la nostra, lo sviluppo della nostra società. E il sindaco, e qui l'aveva apprezzato, aveva detto non condivido la posizione della commissione tecnica e chiederò un ripensamento alla commissione. Allora se io ho posizionato il sindaco avrei detto mi spiace la commissione, vi comunico che l'ho sciolta dieci minuti fa, le scelte le fa il sindaco, le scelte le fa la politica, non può essere una commissione che in questo caso esprime una posizione folle, assolutamente folle e inaccettabile a decidere chi e come deve essere collocato nelle nostre piazze, ma deve essere il sindaco eletto dai cittadini e quindi se io ho posizionato il sindaco avrei licenziato la commissione e comunicato che collocavo in piazza Duse piuttosto che in un'altra piazza milanese questa statua. Il sindaco che però aveva preso una posizione condivisibile di non condivisione con la posizione della commissione, poi cosa ha fatto? Ha suggerito, ha proposto, ha immaginato di collocare questa statua all'interno dell'ospedale della Mangiagalli, quindi di collocarla sì ma nascondendola un pochino in un luogo che già è un luogo deputato alla natalità. E allora come il sindaco invece in qualche modo di affermare con forza che il simbolo della procreazione, il simbolo della vita, il simbolo della natura, il simbolo di trasferire la vita attraverso il latte materno deve essere un simbolo importante, un simbolo che noi valorizziamo collocandolo in una delle piazze più prestigiose come messaggio forte, invece alla fine dice mettiamolo in un giardinetto interno l'ospedale Mangiagalli. E allora caro sindaco invece di essere il condottiero della città di Milano, colui che è stato eletto dai milanesi per essere guidati e per rappresentarli, ancora una volta hai fatto una scelta di retroguardia, hai fatto una scelta che prova a non scontentare i tanti elettori di quella sinistra radical sci, che ha espresso quell'oppisione folle per cui i valori espressi dalla statua di Veromodeo sarebbero valori rispettabili ma non universalmente condivisibili. Noi nasciamo da una donna, l'allattamento è la cosa più naturale che dal momento in cui è nato l'uomo ci ha portato a oggi e noi dobbiamo difendere questi valori.